Dopo 15 anni infatti vengono battuti gli Elephants Catania, straordinaria prestazione, 48 a 39 il risultato finale, una data che dunque rimarrà comunque negli annali con i Carnials che tra l'altro hanno raggiunto, sono stati premiati in questa settimana anche per il miglior quarterback, il miglior running back e poi in generale per la migliore fase offensiva. Adesso c'è una settimana di pausa prima della ripresa del campionato del 30 marzo con i Cardinals che andranno a Cagliari contro i Crusaders, sono comunque tre vittorie consecutive su tre incontri fino a questo momento, ne parliamo con i protagonisti. Grande partita dei Cardinals che dimostrano che il futbole è spettacolare e che fino all'ultimo secondo si può fare qualcosa e qualcosa può accadere nel bene e nel male, forza Cardinals. Una partita tirata fino all'ultimo momento, capovolgimenti di fronte, ha vinto chi ci ha creduto di più e chi ci ha messo il coraggio fino alla fine.